Enti locali, associazioni e privati uniti per raggiungere l'obiettivo comune della costituzione di un gruppo di azione locale che programma interventi di rilancio del territorio. Per i progetti sono disponibili fondi comunitari ma per accedervi è necessario che il GAL sia unico e che abbracci l'intero territorio della provincia di Sernia. Le premesse sembrano esserci. L'incontro convocato nell'aula consigliare dell'amministrazione provinciale ha fatto registrare un buon numero di partecipanti e di adesioni. Intendiamo mettere su una programmazione che veda coinvolti non soltanto gli enti locali ma con la nuova programmazione del leader e quindi della PSR 2014-2020 è previsto che il partenariato deve essere fatto da non più del 49% degli enti locali, non più del 49% dei soggetti privati, più quell'altro 2% di associazioni culturali che operano nelle zone rurali. Quindi l'intenzione nostra è di creare un gruppo di azione locale a dimensione provinciale. Abbiamo una struttura qui in provincia in grado di poter sostenere questa sfida. Tenete conto che il finanziamento è previsto da questo bando di circa 11,7 milioni di euro nell'arco dei sei anni. I progetti di sviluppo sono orientati soprattutto verso i settori del turismo e dell'agroalimentare ma ciò che più conta in questa fase è riuscire a creare una squadra compatta. Dobbiamo cercare di ascoltare il territorio per vedere le peculiarità del territorio per cui credo nell'agroalimentare, credo anche nel rilancio del turismo, del settore cultura. Insomma ci sono diversi settori che possono incidere positivamente a creare un più grande sviluppo locale importante perché anche noi quello che interessa è sviluppare il territorio ma soprattutto essere tutti partecipi, parte pubblica e parte privata. I soldi, i finanziamenti da pioggia non ci interessano, ci interessano un piano di sviluppo credibile e che permette veramente di creare le condizioni di rilanciare l'economia provinciale, in questo caso provincia di Sernia.